Musica Basket femminile, il Panvit stravince il derby Parliamo di basket in promozione femminile, non conosce ostacoli la corsa del Panvit Le ragazze di San Giorgio stravincono il derby contro il Sustinente e mantengono l'imbattibilità Lo schiaccio a sassi Panvit va che è un piacere Le ragazze di Coccia e Nives regattieri non perdono un colpo E stravincono anche il derby tutto mantovano contro il Sustinente Mantenendo primato ed imbattibilità nel girone cremonese di promozione La gara rimane in equilibrio solamente nel primo periodo Le San Giorgine partono contrate con il freno a mano tirato Le ospiti ne approfittano e rimangono in scia alla capolista Chiudendo il parziale sotto di 3 sul 16 a 13 Il Panvit capisce di dover cambiare marcia per scrollarsi di dosso il Sustinente Le padrone di casa stringono le proprie maglie difensive Aumentando nel contempo il ritmo di gioco Sustinente fatica a resistere San Giorgio arriva all'intervallo lungo sul 39 a 22 Il gap si allarga ancora di più nella ripresa Con Russo e compagnie che scappano definitivamente Mettendo fra sé le avversarie oltre 20 punti di scarto Nell'ultimo quarto la musica non cambia E San Giorgio chiude l'incontro sul 71 a 44 Top scorer di giornata ancora una volta è stata Anna Bonomi Autrice di 25 punti Il Panvit tornerà in campo domenica sul campo dell'assi basket Cremona